Siamo verso la chiusura e vediamo delle immagini di un'iniziativa che si è svolta domenica pomeriggio nel cortile delle carrozze della Reggia di Veneria, il concerto della fanfara della Brigata Alpina Taurinense assieme all'orchestra di fiati del Conservatorio di Torino. Le due formazioni costituite da giovani musicisti hanno seguito brani da Rossini ma anche colonne sonore dei Blue Brothers, musiche dei Beatles e non è mancato naturalmente l'inno di Mameli. L'iniziativa fa parte della rassegna Il Bello del Sentire. Il 13 giugno vedrà l'orchestra di fiati del Conservatorio in trasferta per un concerto con la banda della Gendarmeria Vaticana presso i Musei Vaticani.